Ciao a tutti! Oggi prepareremo i crumble cookies. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero di canna, zucchero semolato, burro a temperatura ambiente, uovo, zucchero vanigliato, farina di tipo 00, sale, bicarbonato e gocce di cioccolato fondente. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna, lo zucchero semolato e lo zucchero vanigliato. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro ed azionare il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'uovo e un pizzico di sale ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la farina, il bicarbonato ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. Trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere le gocce di cioccolato fondente ed amalgamare bene. Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per 30-40 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto dal frigo. Adesso formeremo delle palline da 60 grammi ciascuna. e le posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Mettere altre gocce di cioccolato sulla superficie dei biscotti. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-13 minuti. I crumble cookies sono cotti, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia. Successivamente guarnire con creme spalmabili, smarties e granelletti. Crumble cookies. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.